Ciao a tutti, bentornati! Oggi spacchettiamo insieme un pacco arrivato mi da Sephora in realtà io l'ho già spacchettato, ho già sbirciato quindi vi mostro quello che ho acquistato da Sephora in realtà nell'ultimo periodo ho acquistato poco da Sephora rispetto ai miei canoni ho fatto tanti acquisti su Zara o altri acquisti random, ma Sephora meno rispetto ai miei canoni chiaramente prendete con le pinze quello che vi dico, non è poco lo shopping che ho fatto negli ultimi mesi però per i miei canoni mi ero un po' frenata con Sephora però avevo bisogno di cose che mi servivano e quindi ho fatto un mini ordine non ho acquistato chissà che cosa però cose che mi servivano tra l'altro cose anche presenti all'interno della wishlist di cui vi ho anche parlato non tutto ma ci sono alcuni prodotti partiamo infatti subito da uno dei prodotti presenti all'interno della mia wishlist tra questi non so se ricordate vi ho parlato e vi ho detto che avrei voluto provarlo sto parlando della cipria di Nabla una delle più famose di Nabla è la Close Up Powder ve la mosto tra l'altro il packaging è molto bello fatta così ad esagono ed è questa cipria compatta non in polvere libera io l'ho presa nella colorazione light il packaging tra l'altro molto molto bello simile a quella di Becca così viste così di primo impatto il colore è molto bello nude io ho preso la colorazione più chiara di questa cipria con lo specchietto anche tra l'altro molto comodo questa cipria dicono sia molto levigante opacizzante e allo stesso tempo molto leggera nutro tante aspettative da questa cipria perché tutte le parano benissimo infatti è una smoothing press powder proprio perché dovrebbe andare a levigare a diciamo opacizzare il viso vi avevo detto che mi serviva una cipria appunto non in polvere libera ma compatta anche perché essendo estate andando spesso in giro non essendoci mai il weekend portare sempre sbattere sempre prodotti tra cui anche in polvere libera non è il massimo quindi volevo una cipria più che in polvere libera compatta sto utilizzando l'ho quasi terminata anche quella di Catrice che mi è piaciuta e mi sta piacendo davvero tanto tanto che ha anche il buco ma avevo bisogno e volevo provare tanto questa cipria in particolare quindi non ho perso tempo appena avuto modo e l'ho acquistata altro prodotto di questo sono stracuriosa anche molto contenta di averlo preso perché spero che non mi deluda credo non mi deluda sto parlando del fondotinta di Dior il Forever Summer Skin vi ho già detto vi ho già mostrato che ho utilizzato quest'inverno ed è stato il mio fondotinta preferito è il Forever Skin Glow quindi nella versione inverno diciamo ho voluto pertanto provare la versione estiva proprio perché mi sono trovata davvero molto molto bene con la versione normale diciamo quindi la versione invernale tanto che ho voluto provare e acquistare la versione estiva io sapete anche per chi mi segue già da un po' d'estate tendo a non acquistare fondotinta liquidi forse l'anno scorso sì ho preso una BB cream ed è la BB cream di Ciseido ma in genere acquisto sempre fondotinta in polvere tanto che utilizzo quella di Chanel o anche comunque in polvere tendenzialmente in polvere quest'anno ho voluto dare una possibilità a questo a questo fondo molto molto leggero intanto che ho preso anche la colorazione più scura perché l'ho pensato soprattutto magari la sera come fondotinta quando sono e spero di essere un po' più bronzata di così ho preso la versione medium ma anche il packaging è diverso tipo quella c'è la versione normale in vetro questa qui tipo plastica con questo tappo argento molto molto bello molto anche l'applicatore è diverso questo qui è semplicemente si eroga normalmente invece la versione invernale c'è il push che eroga appunto il prodotto dovrebbe essere miscelato e shakerato prima di di andarlo ad utilizzare promette una tenuta 24 ore che si asciuga immediatamente molto molto leggero quasi seconda pelle ma che allo stesso tempo abbia un effetto molto glow molto fresco ma non olioso quindi che si va a diciamo a come dire a stendere bene e ad attaccare molto bene la pelle ma donando quell'effetto molto leggero non maschera ma allo stesso tempo molto glow e molto fresco vedremo dice infatti di agitare prima dell'uso all'interno 40 ml infatti sembra abbastanza liquido come prodotto anche sentendolo cercherandolo così dovrebbe essere molto liquido e quindi questo significa anche molto fresco cercherò magari di fare un video dove vi mostro anche all'opera questo prodotto perché io prima di acquistarlo ho provato anche dei campioncini di altri prodotti però quello che da subito mi ha convinta è stato proprio lui sia perché lo volevo provare mi sono convinta e tra quelli che ho provato ho alla fine scelto appunto lui tra i campioncini che ho provato certo con un campioncino di due o tre utilizzi non si riesce bene a capire quanto possa fare per voi il prodotto però insomma più o meno già nelle prime applicazioni potete capire anche che tipo di prodotto è quindi mi ha convinto per questo e sono molto contenta e molto curiosa di provarlo per bene per parlarvene un po' meglio questo è quello che promette però vedremo un attimino se effettivamente è così poi altro prodotto che ho preso in realtà questo non l'ho preso da Sephora però l'ho inserito nella bustina perché volevo anche mostrarvi questo prodotto anche perché lo trovate anche su Sephora e sto parlando del correttore di Clinique il Behind Perfecting Super Concealer questo l'ho preso in realtà da una profumeria però anche di questo volevo parlarvene volevo mostrarlo era anche lui presente all'interno della mia wishlist ed è appunto il Behind Perfecting Super Concealer è un correttore dovrebbe essere abbastanza coprente ma allo stesso tempo molto leggero che va che allo stesso tempo oltre che leggero molto idratante che va anche a diciamo sgonfiare un po' le borse diciamo così con una tenuta di 24 ore coprenza totale ma allo stesso tempo abbastanza leggero di questo anche io nutro abbastanza aspettative 100% fragrance free tenuta 24 ore il fatto che abbia una tenuta alta una coprenza alta ma allo stesso tempo che sia molto idratante questa cosa insomma mi ha convinto appunto a provarlo è da quanti ml non lo so è da 8 grammi sì in realtà questo qui l'ho già provato un paio di volte e in realtà mi ha fatto una buona impressione perché non è molto passoso quindi si stende molto bene è abbastanza idratante quindi questa cosa già dalle prime applicazioni mi ha fatto dire ok però vedremo anche col tempo perché insomma i prodotti vanno provati poi ho preso due prodotti di skin care anche questo qui era un prodotto che volevo provare sto parlando perché in realtà avevo bisogno di un siero e al che mi sono convinta e ho preso questo qui di Mario Badescu l'Herbal Hydrating Serum ed è questo qui allora io ho preso questo siero principalmente perché ne ho altri ma che hanno all'interno la vitamina C tanto che quello che ho trovato all'interno della mia ultima beauty box di Look Fantastic ho appunto trovato un siero con all'interno vitamina C però io d'estate tendo ad evitare i sieri con vitamina C o prodotti che abbiano all'interno della vitamina C proprio perché sono fotosensibili sono particolari quindi so già che magari con l'esposizione al sole non posso utilizzarli la cosa che mi ha convinto in realtà è stato appunto il fatto che fosse molto idratante ed estate appunto avendo bisogno di molta idratazione l'ho preso non mi sembra profumato all'interno delle erbe che non vi so dire quali siano però lo ando a provare per bene vi dirò appunto quello che penso me ne parlerò per bene è da 29 ml e anche di questo sono molto curiosa perché i prodotti di Mario Badescu sono molto molto chiacchierati e molto molto anche recensiti bene ecco quindi sono anche curiosa di provare questo prodotto infine ho preso un contorno occhi anche perché terminati anche tutti i miei contorno occhi o meglio mi sta terminando il contorno occhi di Madara trovato all'interno di una beauty box e ho voluto provare un contorno occhi di Pixi questo qui che ho preso io è un contorno occhi al retinolo infatti si chiama retinol eye cream ed è un contorno occhi che va tendenzialmente a diciamo levigare e a idratare molto il contorno occhi dovrebbe essere ah e anche all'illuminare quindi che va a donare un contorno occhi come dire idratato luminoso e levigato diciamo levigato e luminoso quindi l'ho voluto provare non ho provato mai nulla di prodotti di Pixi di skin care quindi ho voluto dare una possibilità anche a questo a questo siero poi i prodotti di Pixi mi piace molto il packaging quindi mi sono fatta convincere però mi serviva un contorno occhi idratante e levigante perché no è anche illuminante quindi questo qui che l'ho trovato che appunto aveva queste caratteristiche che io ricercavo e ho preso appunto questo prodotto io non lo so di prodotti di Pixi ci sono due due scuole di pensiero alcune che adorano i prodotti di Pixi di skin care altre che invece magari non apprezzano particolarmente vedremo io che cosa ne penso questo qui è da 25 ml sì e vorrei vorrei mostrarvi tanti altri prodotti ma in realtà questi sono tutti i prodotti che ho acquistato da Sephora a parte un prodotto preso a parte insomma però ripeto ve l'ho inserito semplicemente perché su Sephora lo potete trovare perché c'è all'interno anche della mia wishlist quindi potete appunto reperirlo anche da Sephora infatti vi metterò tutti i link dei prodotti che vi ho mostrato e nulla spero che questo video vi sia piaciuto di avervi tenuto compagnia ditemi che cosa ne pensate dei prodotti che ho acquistato se li avete provati anche voi fatemi sapere quello che ne pensate e nulla io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo presto ciao